Salve a tutti quanti, io sono Terenas e benvenuti al Rework di Galio. Mamma mia che cosa hanno fatto a questo campione, non è più niente di quello che era precedentemente. E infatti anche tutto il suo kit è stato modificato oltre al suo aspetto, ora che è passato da un blu e giallo schifoso a un bianco e oro demaciano, proprio sprizza da tutti i pori demacia proprio questo campione. Mamma mia, mamma mia. La sua storia è molto bella, praticamente è questo tipo colosso di rodi che si attiva nel momento in cui c'è troppa magia in giro e va in giro a spaccare tutto ciò che minaccia demacia, che è fantastico, adoro. Il tema del gargoyle fa schifo, chiunque diceva che era figo fa schifo. Cominciamo, cominciamo. La passiva, distruzione del colosso. Come dice la passiva stessa, il prossimo attacco base di Galio infligge danni magici bonus in un'area che cresce con l'attacco fisico bonus e la resistenza magica. Vi faccio vedere come funziona semplicemente. Si vede che lui ha queste ali illuminati e i pugni illuminati e lui fa un danno ad aria attorno all'avversario che colpisce e fa del danno magico. Scala con la resistenza magica e il danno base totale che tu hai presente sul tuo kit. Molto molto carino, mi piace, è un bel modo per dargli un minimo di wave clear, visto che hanno tolto una delle due spell che gli permette di fare wave clear. E bello, mi piace, mi piace davvero davvero tanto. Più che altro il modo in cui si ricarica è il fatto che se tu colpisci correttamente delle spell, quindi più spell tu colpisci correttamente, maggiore è il danno che apporti al tuo team. Perché diciamocelo, Galio non è un tank, Galio è il classico bruiser ed è un bruiser mirato a negare i champion che fanno danno magico principalmente. Quindi lo vedremo in top lane, in mid lane. Mid lane più probabile che lo si possa vedere per il semplice fatto che può andare a negare degli assassin molto facilmente e più che altro perché può sfruttare la sua ultimate sia per gancare top lane che per gancare mid lane. Può essere usato anche top lane, non dico che non possa essere usato top lane. E' probabile che verrà usato molto spesso in top lane per il fatto che si troverà contro dei campioni che gli daranno una vita un pochino più facile. La maggior parte dei top lane RAP sono tutti i champion che devono stare quasi, non corpo a corpo, ma alcuni corpo a corpo e gli altri devono stare molto vicino per combattere. Quindi Galio può sfruttare meglio le loro debolezze, mentre invece in mid lane se ti trovi contro una sindra già un pochino più difficile da ingaggiare se sfrutta correttamente tutto quanto. Infatti adesso andremo a vedere quali sono anche le debolezze delle singole spell. L'IQ venti di guerra, praticamente hanno preso la vecchia E che lanciava le due ondate, l'ondata del vento, ne crea due a forma di semiluna, un pochino come due Q di Diana che si colpiscono, e poi crea un tornado che si sposta leggermente in avanti e che fa del danno percentuale sulla vita. E questo fa proprio pensare top lane, top lane. Quale lane ha le persone con tanti HP? La mid lane? La jungle? La bot lane? O la top lane? Questa spell fa pensare e capire che la Riot ha detto vogliamo un top laner che fa queste cose. E l'idea è proprio quella, perché il danno percentuale sulla vita massima è il 9%. È veramente alto se colpisci tutto il danno del tornado. Non male per Wave Clearare, ha un buono scaling con l'ability power e un buon danno base. Quindi si fa capire che Galio è un top laner che dovresti buildarlo abbastanza tankoso e che ha dei buoni danni base. Anche se probabilmente buildarlo a P non è una brutta idea, secondo me. Lo scudo di Durand. Questa qua è come la passiva di Malphite nella sua porzione passiva, e invece è una porzione attiva che è come la sua vecchia ultimate. Allora, partiamo dall'inizio. La passiva, vedete questo scudo magico che lui presenta qua alla fine? Dopo un po' di tempo, dopo un tot di tempo, si ricarica questo scudo magico. Come la passiva di Malphite, ma la passiva di Malphite è uno scudo, a prescindere contro tutti i danni, mentre invece lo scudo di Galio è uno scudo che para soltanto i danni magici. Questo fa pensare a delle lane in top lane contro magari un Rumble, un Vladimir, uno Swain, che può fare dei trade più facilmente proprio per il fatto che ha questo scudo. Se gioca un pochino più safe, aspetta che gli si ricarichi la passiva e poi può ringaggiare l'avversario. La parte attiva invece è la parte più figa, perché che cosa succede? Attivando la sua abilità ottiene una riduzione del danno in percentuale e per più tempo dura la W perché devi tenere premuta la W, maggiore è l'area attorno a sé che crea e una volta che viene completata questa area, cosa succede? Lui taunta, cioè... non so nemmeno come spiegarlo in italiano, è un taunt. Cosa succede con il taunt? Semplicemente le persone ti autoattaccano, sono costrette ad autoattaccarti e non possono sfuggirti. Maggiore la durata del tempo che hai tenuto premuto la W, maggiore la durata del taunt. A questa maniera puoi praticamente entrare dentro un fight, attivare la W tankandoti tutti i danni e poi attirare l'attenzione di tutte le persone su di te. Lo scopo principale è proprio per tankare, quindi tu ti butti dentro, sei gale, ti butti dentro, hai una bella build a tank, ti riduci i danni con la W e nel caso in cui tu taunti è un avversario la durata, la durata della riduzione del danno è di nuovo aumentata per il tempo del taunt. Molto bello, fatto apposta per... cioè questo ti fa pensare, vogliamo che Gali sia un tank, quindi di nuovo spinge verso la top lane e meno verso la mid lane, anche se la mid lane è una cosa che la Riot vorrebbe, proprio per negare tipo champion come LeBlanc, per così dire. La riduzione del danno percentuale non è una cosa poco contro champion che sono degli assassin. Mi piace più che altro perché proprio mira a tenere quella cosa in vita di Gali che era attirare l'attenzione di tutti gli avversari su di sé. Bellissimo, fichissimo. Questo invece è Pugno della Giustizia. Vi faccio prima vedere l'animazione perché è proprio molto semplice. prende, va avanti e tira un pugno lanciando in aria l'avversario. È molto semplice, non c'è niente da dire in merito. Il danno base, anche lo skilling con la BT power, è abbastanza buono, non è per niente male. E per il resto non c'è niente da dire in merito perché è una spell per ingaggiare sugli avversari, ma al contempo che cos'è? Cosa succede? L'AE di Galio, nel momento in cui tu ti lanci dentro, ti lanci dentro in mezzo agli avversari. E' come utilizzare una QDV e ti trovi in mezzo agli avversari. Non puoi fare un cazzo, sei fregato. Sei totalmente, assolutamente fregato. La QDV fa un leggero knockback, mentre invece questo è proprio un knock-up vero e proprio, che fa danno magico. Tutto il kit di Galio fa danno magico, non c'è modo proprio di sfuggire a sta cosa. Di nuovo, anche questo qua si ferma contro il terreno, quindi non puoi saltare attraverso un muro con questa abilità, ma puoi fare soltanto dei dash. Niente salta attraverso il muro, niente mobilità attraverso i muri per Galio. Unlucky. Almeno con le altre spell. Con l'entrata dell'eroe, che questa qua, fermi, questa... Allora, l'entrata dell'eroe è una citazione all'ultimo film di Deadpool, che letteralmente c'è l'entrata di questa tipa, che dice, oddio dovrei fare un'entrata da supereroe, un'entrata da supereroe... Pam, entra per... Geniale. Vi voglio bene, Riot. L'entrata del supereroe, non so nemmeno come spiegarla, quindi prima vi faccio vedere il video. Si lancia, si lancia e fa un knock-up ad area. Voi direte, questa cosa è la roba più broken di sempre. Fermi, fermi. Cosa succede? Galio deve scegliere un alleato su cui deve saltare. E voi direte, è come la ultima di Shen... No, no, perché la ultima di Shen scuda. La ultima di Galio cosa fa? Galio dona la sua passiva per ridurre il danno sul proprio alleato mentre è in volo, mentre è in volo e mentre sta per atterrare. Però dov'è che atterra Galio? Non atterra sopra il tuo alleato. Quello sarebbe troppo forte, sarebbe letteralmente un alleato che dice Ok, perfetto, io prendo e me ne sto tranquillamente, bellamente... Posso ingaggiare a gratis. Cioè una V si lancia in mezzo, Galio fa il follow-up, come cazzo reagisci, no? Sarebbe impossibile. Ed effettivamente potrebbe diventare impossibile con un doppio engage del genere. Ma l'idea, lo scopo principale proprio di questa ultimate è quella che Galio arriva, parte, decide la posizione in cui si trova il tuo alleato e salterà in quell'esatta posizione. Nel momento in cui tu utilizzi la ultimate, lì è dove salterà Galio, non c'è se o ma che regge. Se tu ti sposti, se tuo alleato ti sposti, non è che Galio ti segue. Galio salta dove ha deciso di saltare, già. Ti dà comunque la passiva per ridurre il danno, ma... ma... salta dove ha già saltato. Il knock-up ad area ha due aree. Un'area esterna che fa un knock-up più piccolo e un'area interna che fa un knock-up pieno. Un secondo e mezzo nell'area centrale e 0.75 secondi nell'area esterna. Molto figo! È un bel metodo per controingaggiare. Esempio, stanno provando a inseguire quella tua Lux di merda che si è fatta trovare fuori posizione. Cosa fai? Ti lanci in mezzo, Lux lancia una combo, potete controingaggiare. Può essere. Non è una garanzia. Non è una cosa così facile da mettere in atto, effettivamente. È una cosa che in competitive sarà fortissimo, però al contempo è molto telegrafato. Che cosa vuol dire? Viene segnalata l'area in cui colpisce Galio. Quindi gli avversari possono sfuggire dall'area. Sicuramente magari aumentano il tempo della durata perché è molto piccolo il tempo di carica. Nel senso, lui salta in aria e dopo un secondo parte immediatamente. Quindi, probabile che ci siano dei cambiamenti in merito perché è molto veloce a confronto con altre ultimate globali che ti danno il tempo di respirare e dire, ok, posso reagire, come faccio? Galio sta per saltare qui, ok, me ne vado. Con la ultimate di Galio totalmente, da come si vede sul PBE, come vedrete fra poco nel gameplay, non è che c'è tutto questo tempo per reagire. Molto figo. Fa pensare molto alla top lane. C'è chi penserebbe che è un support a causa dei tanti crowd control. La cosa è che i danni di Galio e le resistenze di Galio di base non sono ottime. Armor e Magic Rays sono discrete, la vita è discreta, non è proprio una roba da tank. Sì, ha delle statistiche molto alte. A confronto con una di carry, a confronto con un mago, a confronto con un support, non a confronto con gli altri bruiser e tank. È discreto come bruiser e tank. E infatti non può permettersi di andare su porto, perché rischia tantissimo o di non avere assolutamente danno, e quindi avere soltanto i crowd control, che non è male, però rischi molto, però rischi molto. Oppure puoi andare top lane, avere la tua build completa, e avere non solo le statistiche difensive, ma anche statistiche offensive, quelle proprio di un bruiser, e allora là diventi già più utile. Diventi molto, molto, molto più utile. Non facile assolutamente da fare, eh. Penso che sarà difficile bilanciarlo per la ride, perché se ha troppi danni base, potrebbe funzionare bene anche come support. E questo viene da pensare facilmente, perché ho detto anch'io che ha dei buoni danni. I danni base ce li ha, sono molto alti. Però, al contempo, se mettono dei buoni scaling con l'ability power, e caricano più sullo scaling dell'ability power, e meno sui danni base, è molto, molto, molto facile che venga spinto verso la top lane o verso la mid lane. Come detto, mid lane meglio, perché può andare o top lane o bot lane a aiutare i propri alleati. Top lane può funzionare comunque, perché alla fine basta che cammini verso la torre bottom, e poi ulti per aiutare i tuoi alleati. Tutto qua. Io direi che questo qua è tutto, e adesso passiamo al gameplay. La Codigalio puoi spararla sia sotto i tuoi piedi, oppure ad una grande distanza, dipendentemente. Non c'è un range fisso, ma è un range che puoi decidere tu. Il tornado che si può formare si sposta leggermente in avanti, dipendentemente dal tempo. Dura un secondo e mezzo quel tornado. Tenendo premuto il tasto W, attiverete la riduzione del danno, ma rallenteranno anche i vostri movimenti. Il cerchio che si crea attorno a Gareo è l'area dove il taunt avviene effettivamente, e funziona su tutti gli avversari che sono all'interno di quell'area. La E si presenta come uno skishot lineare che va a colpire il primo avversario che si incrocia. Non puoi saltare attraverso i muri con questa abilità, quindi non ti dà mobilità. Non solo, ci vuole un mezzo secondo di caricamento prima che parte effettivamente il pugno, quindi è molto facile da counterare. La ultimate è una spell che tu metti e piazzi su un tuo alleato riducendo il danno che lui prende e poi si lancia nella posizione effettiva in cui il tuo alleato era nell'istante in cui tu l'hai lanciata. Quindi se il tuo alleato si muove, tu non segui il tuo alleato, ma salti direttamente nella posizione in cui si trovava. Il knock-up ha due aree, un cerchio esterno e un cerchio interno, il cerchio interno ha un knock-up più lungo, il cerchio esterno ha un knock-up più corto. Il range è molto grande, ma non è globale, dai 4.500 fino ai 5.500, quindi più o meno come una ultimate DTF. Una cosa importante da notare è che molti mi hanno chiesto durante la W non puoi utilizzare altre abilità, quindi non potrai saltare addosso ai tuoi avversari, non potrai lanciare i tornadi e non puoi utilizzare la tua ultimate. Nell'uno contro uno, Galio non è per niente male considerati i suoi buoni danni, ma c'è da considerare e sfruttare correttamente la sua passiva. La sua passiva legata agli autoattacchi va concatenata insieme all'abilità, quindi cosa significa? Si apre con un autoattacco, si utilizza il knock-up per poi seguirlo con il tornado. Utilizzo dell'autoattacco, il taunt immediatamente dopo e pochi secondi dopo, due secondi dopo, c'è di nuovo un autoattacco potenziato. Tutto questo per massimizzare l'efficienza. E' il danno.